Nuovo pacchetto aerodinamico per la Williams FV31 che ha rivoluzionato la configurazione. Due nuovi profili sono stati ancorati all'interno delle paratie verticali del muso per correggere i flussi e ricavare i massimi valori di efficienza. Innovative le pine verticali ancorate la scocca che trovano spazio grazie ad un buco regolamentare. Sono state studiate per direzionare i flussi verso il retrotreno e per imprimere un andamento longitudinale lungo l'asse vettura. Anche il diffusore posteriore sfrutta una lacuna delle restrizioni regolamentari 2009. Sotto alla struttura di protezione larga 15 cm non normata dai regolamenti il diffusore si alza disegnando una maggiore inclinazione della struttura per massimizzare la stirazione d'aria dal fondo vettura.